L'importante monumento storico che si trova nella ridente cittadina di Paola è il complesso monastico medievale che si trova a sud del territorio di Paola, denominato la Badia. Il monastero assunse nei secoli diverse denominazioni e pur essendo comunemente conosciuto con il nome di Badia, in realtà è intitolato a Santa Maria di Valle Giosefat. Il complesso fu costruito intorno al secolo XII dai monaci di questo ordine cavalleresco, composto da benedettini. Esso aveva originariamente lo scopo di curare gli ammalati e proteggere i pellegrini che si ricavano a Gerusalemme. Rientrati dalla Terra Santa, dopo che Gerusalemme era caduto in mano ai turchi, lo scopo era e lo scopo dell'ordine fu prettamente religioso.